L'Abruzzo abbandona i lavoratori. La nostra regione infatti è terz'ultima in Italia per i pagamenti della Cassa Integrazione in Deroga. Peggio di noi solo Sardegna e Valle d'Aosta. Circa 50.000 lavoratori, che a causa del lockdown non hanno visto un euro in due mesi, attendono ancora l'indennità promessa. È scandaloso quello che sta avvenendo attorno alla Cassa Integrazione in Deroga. È intanto una questione tutta regionale, perché è la regione che deve trasmettere all'Inps le varie domande e migliaia e migliaia, decine di migliaia di lavoratori, attendono che questo governo regionale, questa giunta così lenta, faccia in modo da poter erogare la Cassa Integrazione in Deroga. 638 sono le pratiche di Cassa in Deroga decretate dalla regione, 526 quelle autorizzate dall'Inps e appena 17 quelle pagate per un totale di 25 beneficiari, mentre oltre 30.000 persone sono rimaste a mani vuote. Adesso nessuna giustificazione sembra più plausibile, un'occasione ghiotta per l'opposizione di puntare il dito contro il governo regionale, anche per quanto riguarda il trasporto pubblico. Nonostante giustamente il trasporto pubblico abbia continuato a godere dei trasferimenti della regione, allo stesso tempo c'è stata un'enorme riduzione in questi mesi scorsi della domanda di mobilità e quindi i costi sono sostanzialmente stati abbassati, sono diminuiti di molto nelle dieci settimane scorse. Ci si presenta invece la fase 2 con di nuovo un aumento della domanda del servizio del trasporto ma senza programmazione. Noi ci chiediamo quali protocolli di sicurezza per gli utenti e per le maestranze sono stati messi in campo. La costante è che la giunta è sempre lenta su tutti i settori e non vi è mai una programmazione.